Ma certo, nonostante un periodo di oggettiva difficoltà, questa è la dimostrazione che volendo si può fare. Chiaro, servirebbero più risorse, questo ce lo diciamo sempre, però intanto lavoriamo con quello che c'è e la dimostrazione che tirandosi sulle mani che si risolvono i problemi viene anche da questi piccoli grandi segnali.